A stretto giro dopo la conferenza stampa del suo omologo a Campobasso, il sindaco di Sernia, Giacomo D'Apollonio, questa mattina ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulle misure in corso d'attuazione nel capoluogo Pentro, tese al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus covid-19. In sostanza, D'Apollonio ha illustrato le direttive contenute nel recente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha fatto cenno, invitando la popolazione a non farsi prendere da ingiustificato allarme al caso della infettivologa che lo scorso weekend ha prestato servizio presso l'ospedale civico veneziale, attualmente in quarantena preventiva a Roma perché è entrata in contatto con persone contagiate. Non mi risultano casi di quarantena, i Sernia assolutamente indenne in questo momento, c'è qualche situazione che si sta valutando come quella della dottoressa del servizio, diciamo, della guardia medica che però è una tornista solo nei giorni festivi, quindi si sta ricostruendo questo. Stamattina ho chiesto aggiornamenti, non ce ne sono ancora, quindi insomma la situazione sembra assolutamente sotto controllo, aspettiamo con ansia di avere anche ulteriori indicazioni, però credo che la situazione non pare sia allarmante. Ecco, quindi questo è una notizia che comunque voglio dare anche ai concittadini, di essere sereni però prego tutti di collaborare, anche i più giovani con le loro manifestazioni per strada, diciamo, negli incontri, ecco, di essere molto cauti, ecco, e di seguire queste raccomandazioni che sono state formulate nel decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri che è pubblicato per intero sul sito del Comune. Il Veneziale continuerà in questo momento ad erogare le prestazioni che sta erogando, il riferimento, come ripeto, sia a livello di analisi per gli eventuali tamponi che dovessero essere necessari anche nella nostra area territoriale, saranno sempre, faranno capo sempre al laboratorio del Cardarelli di Campobasso, così come per eventuali emergenze, a meno che ci siano nuove disposizioni, ripeto, la situazione è in continua evoluzione, in questo momento la situazione è questa.